S3, la dinamica azienda di Tiene, ci ha abituati nel corso degli anni e dei decenni a una brillante capacità di proposta tecnologica, sempre in sintonia con le esigenze degli utilizzatori e con le dinamiche di mercato. Con il centro per la lavorazione delle travi TecnoFast, l'azienda ha fatto centro a giudicare dall'interesse suscitato negli operatori del settore. TecnoFast è un centro di lavoro con testa a 5 assi a doppia uscita e struttura monoblocco per la lavorazione delle travi. Alcuni punti di forza delle macchine sono i seguenti. In primo luogo l'ingombro e i tempi di installazione sono sensibilmente ridotti rispetto ai centri di lavoro caratterizzati da uguali caratteristiche prestazionali, permettendo così una facile trasportabilità senza necessità di smontaggio anche in container da 40 pollici. In secondo luogo la lavorazione delle travi è completamente automatica per dimensioni significative, 250 mm massimo per 620 mm di altezza per una lunghezza limitata. Infine un nuovo software è montato a bordo ed è dotato di simulazione e di dispositivo anticollisione. Si tratta di un pacchetto prestazionale molto ricco per una macchina che si presenta come un investimento in tecnologia di notevole convenienza. S3 ha lavorato con grande impegno nell'ottimizzazione dei percorsi degli utensili, in modo che la compattezza fosse garantita. Con tutto ciò sono montati a bordo macchina 11 utensili che volendo possono essere raddoppiati. In sostanza una entry level ambiziosa in grado di portare un contributo significativo all'aggiornamento tecnologico delle aziende produttrici.